Anche quest'anno Dirty Dancing School, noi ormai sono tanti anni che li seguiamo e sprechiamo ogni anno aggettivi ma li meritano veramente. Agnese, Antonio, ormai sono una scuola come prima testimonianze visive abbiamo potuto vedere, famosa in tutto il mondo, quindi questo per noi è un grande orgoglio perché il loro lavoro porta Agropoli a essere conosciuto dappertutto, quindi non possiamo fare altro che ringraziarvi naturalmente per l'impegno che ci mettete. Come ogni anno la Dirty Dancing School di Agnese e Antonio Di Biasi riceve consensi e ammirazione per lo spettacolo finale dedicato al saggio spettacolo che per il 2019 ha visto in scena il musical di Romeo e Giulietta, oltre ai tanti tradizionali bali di gruppo come danze standard latine artistiche, caraibiche, tango argentino, danza del ventre, danza moderna e tanto altro ancora che hanno tenuto con il fiato sospeso dall'emozione i presenti. Momenti vissuti con ammirazione dal pubblico presente attraverso i tanti balli presentati dalle varie categorie nella piazza d'armi del suggestivo Castello Angioino Aragonese di Agropoli, emozionata come ogni anno la maestra Agnese Di Biasi che al termine del saggio ha ringraziato tutti coloro che le sono stati vicino per realizzare anche per il 2019 uno spettacolo strepitoso. Grazie di cuore a tutti i miei ballerini, ai genitori, agli amici e ai miei familiari, a tutti coloro che credono in me e affidano alla scuola di ballo Dirty Dancing School i propri figli. Grazie a tutti coloro che hanno reso e dato con la loro presenza o con la loro professionalità il loro contributo per la riuscita della serata. Saggio spettacolo 2019, l'emozione non a voce, tutto perfetto, sottolinea Agnese, tutto fantastico. Questa è la dimostrazione che la passione, l'impegno e la collaborazione fa sì che i sogni diventino realtà. La scuola di ballo Dirty Dancing School riaprirà a settembre con novità e corsi sempre più interessanti e per tutti i gusti.